Geox for Valemur è una collezione speciale. Nasce dalla collaborazione fra il team di designer e di ingegnerizzazione di Geox con un gruppo di ragazzi speciali. Il progetto Valemur unisce proprio già dal nome. Valemur è l'unione tra Vale e Glamour. Per noi Vale vuol dire il valore delle persone, delle cose, dei progetti. E il Glamour è il mondo centrante della moda. Noi ci occupiamo proprio di progetti di vita dei nostri ragazzi. Dai 14 anni in poi lavoriamo sulle autonomie, prepariamo il ragazzo, quindi facciamo formazione. Unire le nostre iniziative con quelle di Geox danno proprio corpo a questo sogno. Le ragazzo e le ragazzo che hanno partecipato in questo progetto hanno ottenuto l'opportunità, a través dei programi formativi della Fundazione Asimdao, di realizzare una pratica laborale in cui hanno posato in pratica tutto l'apprendimento in le classi. Il progetto di Geox for Valemur consiste nel tintato di un'acciaio che, che, posteriormente, si inviarà a Geox per la fabbricazione delle sapatelle della nuova temporada o nuova collezione. Geox for Valemur è una collezione speciale. Abbiamo cercato di esaltare la creatività innata di questi ragazzi. Il risultato è stato un prodotto assolutamente unico. Per la Spagna abbiamo mantenuto il modello iconico della prima collezione italiana. Abbiamo incontrato una designer speciale, che è Anna Vives. Anna è stata molto contenta, molto felice, della possibilità di poter fare un disegno per Geox. Le lettere di Anna hanno stato nel Barca, in una Yamaha, nel casco di Jorge Lorenzo, in tutta la città di Barcelona, in Madrid, però mai, 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 in una bamba. Il disegno significa sumando capacità. Una città è Barcelona, da parte, dove ci sono le lettere di Anna e diverse persone. E tutte le persone hanno capacità e discapacità. Per questa collezione, Anna Vives ha realizzato un disegno che abbiamo trasferito a diverse pelle e, posteriormente, i ragazzi di Essendown hanno pintato in diversi colori. In questo modo, abbiamo unito creatività, tecnologia e lavoro artesanale. In generale, il progetto ha funzionato stupendamente, hanno lavorato in equipa, i ragazzi sono molto contenti del risultato, come noi. e i ragazzi. Il passaggio importante che stiamo facendo con il progetto Spagna è quello di passare da l'inclusione lavorativa all'inclusione sociale. Il progetto sta diventando sempre più importante, ma vogliamo esportare questa idea, questo sogno e di sicuro lo esporteremo presto anche in altri paesi. Se, aggiungendo capacità, i sogni sono più facili di realizzare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.